Ciao a tutti, sono Pietro. Ho iniziato la mia avventura con l'amore della mia vita, con Copi, il mio cavallo. Mi sono messo molto in gioco perché hanno rivoluzionato molto il mio modo di montare, soprattutto a cavallo. Dal punto di vista equestre sono migliorato, anche se purtroppo l'altro giorno in gara non ho dato il massimo di me, ma non per complicazioni tecniche, ma più per complicazioni emozionali di testa. Io fino adesso sono soddisfatto di quello che ho fatto. Non nascondo che se non raggiungessi un bel risultato finale non sarei completamente felice perché comunque quando fai una gara, anche se monti bene, quello che conta è la classifica.